Ciao! In questo video voglio parlarti di una zona che non comprende il viso ma subito sotto il viso e cioè il décolleté. Beh, anche questa zona è una parte importante e traditrice che rivela la nostra età ed è importante prendercene cura, com'è importante prenderci cura del viso. Quindi anche questa parte andrebbe idratata, massaggiata, ma il più delle volte non lo facciamo e ci fermiamo al mento o al limite al collo ma al décolleté tutti noi o la maggior parte delle persone se ne dimentica. Ecco che in questo video voglio mostrarti alcuni esercizi per attivare il microcircolo fino al décolleté e poi ti mostro un mini massaggio che potrà esserti utile. Per attivare la zona del collo fino al décolleté posiziona una mano sul mento e adesso raccogli la pelle e tira la giù 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 fino alle clavicole fissa la presa con l'altra mano e adesso solleva il mento in modo da sentir tirare bene il collo e in realtà stai lavorando fino al décolleté quindi allunga anche il mento in avanti e rilassa allunga e rilassa allunga e rilassa e ritorna in centro e adesso avvicina il mento al petto e poi inclina la testa e senti tirare abbassa la testa e solleva abbassa e solleva. Questo lo puoi fare una decina di volte. Stessa cosa in diagonale quindi di lato e su e ritorna in centro dall'altro lato in su e così per altre dieci volte quindi in totale puoi fare su e giù dieci volte e entrambi i lati dieci volte un'altra cosa molto importante per avere un décolleté senza troppe pieghe è la postura quindi attenzione ad avere la postura bella dritta quindi se non sei sicura e sicuro di avere la posizione dritta e corretta ruota con le spalle e mantieni questa posizione come se volessi avvicinare le scapole quindi questa dovrebbe essere la posizione corretta e dritta attenzione che nell'arco della giornata non ti ritrovi in questa posizione quindi più noi stringiamo in avanti più premiamo e c'è il rischio appunto di creare pieghe e deformare il décolleté oltre alla postura è chiaro che devi prenderti cura del tuo décolleté anche durante l'estate quindi attenzione all'eccessiva esposizione al sole perché ricordiamoci che i raggi solari sono dannosi per la nostra pelle e in più possiamo prendercene cura con dei massaggi proprio come possiamo massaggiare il viso e il corpo anche il nostro décolleté andrebbe massaggiato almeno ogni tanto se non proprio ogni giorno il massaggio che puoi fare è questo prendi l'olio che usi di solito che può essere anche un po' di olio di oliva o olio di cocco spalmalo tra le mani ma anche disponilo sul tuo décolleté così così la pelle potrà scivolare le mani potranno scivolare e adesso esegui questi movimenti quindi verso l'esterno dall'interno verso l'esterno puoi usare anche le nocche e massaggiare con delicatezza vogliamo stirare e stendere queste pieghe anche verso su anche qua una decina di volte o quante volte vuoi dipende anche un po' dal tempo che abbiamo comunque è importante se durante il giorno o comunque anche durante la notte creiamo delle pieghe è importante poi di tanto in tanto stirare altrimenti le pieghe rimarranno sempre più dure e marcate e sarà difficile poi stirarle e infine come ultima cosa il décolleté diventa molto segnato se tendi a dormire di lato durante la notte sicuramente avrai notato che se dormi di lato e se hai un seno importante dormendo di lato schiacci la zona del décolleté ed ecco che quando ci svegliamo ci ritroviamo con tante linee e tante righe esiste un cuscino che ti permette di ridurre questa piega questo stress quando dormi di lato è un cuscino che ho scoperto da qualche mese è molto comodo posso assicurare che la mattina davvero non ci si sveglia con tutta la cartina geografica proprio perché non permette al seno di schiacciare quindi di creare pressione sul nostro décolleté il cuscino è questo sembra uno zainetto piccolo ovvero no a vederlo così sembra un ranocchietto che lo indossiamo un po' come il reggiseno quindi è regolabile ovviamente questo va messo sotto a contatto con la pelle sotto il pigiama è regolabile e va posizionato in questo modo quindi in mezzo al seno questa parte mantiene la pelle distesa e quindi anche quando dormiamo di lato diciamo questo ci fa da supporto e non crea tanto pressione sul nostro décolleté lo so che può sembrare una cosa scomoda, anormale in effetti anch'io quando l'ho visto ho pensato mamma mia ci mancava solo questa ma devo dire che per chi ha grossi problemi di décolleté segnato questa potrebbe essere un'ottima soluzione è chiaro che nessuno ci obbliga a mettere tutte queste cose ma se vuoi migliorare e diciamo prevenire i segni o rallentare e far sì che tutti questi segni sul décolleté non siano così accentuati prova questo cuscino per il décolleté il peto è morbidissimo di un materiale molto morbido anche molto elegante regolabile proprio come un reggiseno questo cuscino lo produce un'azienda che è specializzata in prodotti per la notte io ho già un altro loro cuscino ovvero il cuscino anti-age che avevo di cui ho parlato già tempo fa anche questo per chi dorme di lato è un'ottima soluzione perché ha queste rientranze questi buchi li chiamo dove appunto noi andiamo ad appoggiare la testa mentre dormiamo di lato e quindi non andiamo a schiacciare la guancia quindi anche questo è un ottimo cuscino sempre fatto di tessuto e materiale che non crea pieghe è molto gradevole al tatto e anche loro producono questa mascherina sempre in seta potete scegliere il colore che vi piace molto comoda, molto morbida e anche questa regolabile perché spesso troviamo sul mercato mascherine anche molto belle ma poi quando le mettiamo stringono e invece questa è regolabile e appunto puoi scegliere il colore che preferisci e questa la uso soprattutto quando vado sono in viaggio o quando non dormo in casa mia perché durante la notte se vogliamo anche produrre melatonina se vogliamo dormire bene e se vogliamo stimolare il processo di ringiovanimento bisogna dormire con il buio completo, totale quindi niente lucine della tv, delle sveglie spesso questo non è possibile ottenere io a casa nella mia camera riesco ad avere il buio completo quindi non uso la mascherina ma la uso spesso quando dormo in hotel o anche se devo fare viaggi lunghi in aereo insomma la uso quando sono in giro ed è veramente veramente comoda morbida, piacevole e appunto col fatto che si può regolare è veramente ottima anche questo vi lascio tutto il link potete andare a vedere tutti i prodotti quindi prenditi cura del tuo décolleté non dimenticarti di questa zona quando applichi la crema per il viso prolunga la strada e arriva fino al décolleté perché è importante anche questa parte del collo bene spero che questo video ti sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video ciao